La Spezia si è svegliata tranquilla questa mattina dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli europei. Non si è infatti verificato nessun particolare problema di ordine pubblico, anche se alcune sedie in Piazza Europa sono state danneggiate. Stessa cosa per la riproduzione del faro situato nella rotonda di Via L'Italia. I responsabili, come evidenzia il sindaco Perachini, potrebbero essere individuati già nelle prossime ore, viste le numerose telecamere. Detto questo, a prendere il sopravvento è stata solo la voglia di festeggiare per il traguardo raggiunto. Direi che siamo più che soddisfatti, anche se purtroppo qualche piccolo danno mi è stato segnalato dal comune. Io voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutte le forze di polizia, le polizie locali e tutti i volontari che sono stati in strada durante tutta la notte, consentendo a che la festa si rimanga una festa e di cui tutti possiamo oggi essere fieri. Non solo quindi della nazionale, ma anche del nostro senso di responsabilità di italiani. È evidente che le forze di polizia stanno facendo uno sforzo straordinario, insieme alle loro le polizie locali. Assicurano servizi impegnativi per la Movida e sono state in strada fino alle 4 del mattino e anche oltre la notte di sabato. La notte di domenica hanno fatto veramente un ottimo lavoro e quindi un mio doppio grazie.